Mi ha dato, oh say, ha ha, now I'm a believer, I'm in love, I'm a believer, I can't believe if I die, mi ha dato, oh say, ha ha, now I'm a believer. Stiamo per avvicinarci ad uno dei momenti clou di questa nostra serata, l'atmosfera nello studio è diventata bollente perché vi ricordo che dei sei concorrenti in gara soltanto tre resteranno in finale perché tre verranno eliminati dalla nostra giuria ma il vincitore sarà uno e uno solo e sarà decretato dal nostro pubblico in sala. Nella finalissima del 30 luglio ci sono in palio ben 50.000 euro, naturalmente oltre al titolo quindi i vincitori delle sei puntate si sfideranno in una grande finale e insomma 50.000 euro è un premio di tutto rispetto. È il momento di andare a conoscere l'ultimo concorrente della gara. A sei un mito è una donna ma scopriamola attraverso la nostra clip. Mi chiamo Rita e sono qui per imitare Loredana Bertè. È un mito che io ho sempre amato da sin da bambina perché lei è unica e mi piace molto la sua personalità, il suo modo di vestire, la sua aggressività, il suo modo di porsi perché è una persona che quello che sente fa senza farsi dettare delle regole da nessuno e quello è il bello. Lei è Loredana Bertè, io non lo sono, però spero di poter dare il massimo di me stessa. È un volo a planare! Yeah, adesso proviamo da capo ancora, da capo ancora. Ok, perché comunque dentro c'è un qualcosa che mi accomuna a lei forse anche come grinta. Rita ha una bellissima grinta, è predisposta ad essere sul palcoscenico, sono sicuro che troverò la maniera di farlo perché l'artista che va a interpretare è sempre attaccata, attaccata delle forme di dare nel farsi capire che diventa diversa, insomma. Una cosa che mi fa impazzire è la sua follia, quindi mi piacerebbe essere un po' più come lei come personaggio. Sì, un po' più folle. Rita Signorino questa sera si trasformerà nel suo mito Loredana Bertè. Rita, da quanto tempo la segui? Da quando avevo 11 anni, quindi praticamente da sempre. Sì. Loredana Bertè ha un carattere un po' difficile, un po' bizzoso. Tu ti identifichi con lei anche in questo senso? Ma diciamo per qualche cosa sì, ma più sul lato artistico della situazione. Tu sei più tranquilla come tipo, senti, ma della carriera e della vita di Loredana, c'è qualche cosa che tu non faresti mai? Per esempio, non so, partecipare a un reality show oppure sposare Bjorn Borg? Sicuramente sposarmi, anche se un gran bell'uomo, ma credo di non avermi sposato Bjorn Borg. Non è il tuo tipo, insomma, non l'avresti mai sposato. Nella tua esibizione a che periodo di Loredana ti rifai? Perché tu saprai bene che lei ha cambiato look molte volte, addirittura una volta si è presentata sul palco col pagione finto, punk rock. Assolutamente la versione rock. La versione rock, quella forte di Loredana. E stasera ci farai ascoltare? Eh, chiaramente non sono una signora. E allora Rita, vai pure a prepararti, perché questa notte è per te. Sei un mito, Loredana Bertè. E' il pane del giorno E' pochi di loro trascinio Del mio ritorno Del mio buongiorno E' un volo a planare Per essere inchiodati qui Crocifissi al muro Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora Una con tutte selle nella vita Non sono una signora Ma una per cui la guerra Non è mai finita Oh no Oh no Io qui sono una foglia d'argento E' un volo a planare E che vorrebbe seguire il vento Che non ce la fa Oh ma che brutta fatica Cadere qualche metro là Dalla mia sfintura Dalla mia paura E' un volo a planare E' un volo a planare E' un volo a planare Per essere ricordati qui Per non saper volare Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora Una con tutte selle nella vita Non sono una signora Ma una per cui la guerra Non è mai finita Non sono una signora Una con tutte selle nella vita Oh 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 Ricca signorino, Loredana per te! Allora, Ricca, sei stata all'altezza di Loredana in questa esibizione? Spero di sì. Adesso lasciamo giudicare ai veri maestri. E allora sentiamo che cosa ci dice la giuria. Allora, eccomi qua. Con me caschi proprio bene, perché io devo dire che ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con Loredana per te tanti anni. Quindi bene o male? Questo te lo dico dopo, però è per cui sono anche abbastanza feroce. Devo dirti che mi hai stupito, sono davvero entusiasta di te, sei stata bravissima. In più, so che voi che partecipate a questo programma avete un sogno, amate veramente l'artista che imitate. Loredana per te è una grande artista e ce l'hai fatta secondo me in pieno, per cui complimenti sotto tutti i punti di vista. Bravissima. Hai capito? Sì, pauletta. Posso aggiungere velocemente? Certo. È vero quello che dice Rudy, giustissimo, grande voce e tutto quanto, però volendo trovare il pelo nell'uovo è che Loredana Bertè non ha soltanto grinta, ha carica erotica. E non basta un chiodo e il tutù, io credo. Questo è proprio giusto per puntualizzare. E invece Jonathan? Un piccolo commento sulla Miss la trovo perfetta e trovo che lei sia stata molto carina a mettere un nastro rosso sul microfono come la cara Loredana Puff come Porta Fortuna. Allora, Rita, se dovessi essere tra i finalisti di questa sera, quale sarà la canzone che ci farei ascoltare? Sei bellissima. Ebbè, è un classico. E allora, grazie a Rita Signorino, Loredana Bertè ha sei un mito. Sono finite le esibizioni dei nostri concorrenti. Io volevo fare una domandina a Jonathan, perché Jonathan è un esperto di look. Quando si parla di look, insomma, Jonathan ha sempre la parola giusta. Io mi metto qui vicino a te, perché voglio sapere qual è il look che ti è piaciuto di più. E di pure. E insomma, se tu dovessi interpretare un personaggio, da chi ti piacerebbe vestirti? Guarda, mi dicono da quando sono piccolo, che io sono identico a Prince. Quindi ho detto, pensa se venivo da anonimo, mi candidavo come qua, mi venivo a fare un bel kiss, facevo... I don't have to be rich. No, scusa. Abbiamo il settimo concorrente di sei un mito. Esattamente. Senti, ma tra i nostri amici qual è quello che ti è piaciuto di più a livello di look? Allora, ti devo dire, il look della Bertè l'ho trovato geniale, bello, era convinta, lei era veramente... Secondo me lei è convinta di essere la Bertè. Eh, non lo so, può darsi, dopo magari... Decisamente la Bertè... Anche la Franklin Arita non mi dispiaceva, devo dire. Eh, non era male Arita. Era bella colorata, era bella carica. No, devo dire, sono molto, molto, molto sorpreso in bene. Tutto è andato perfettamente, sono veramente squisiti tutti quanti. Adesso però siete voi che siete chiamati a giudicare. Siamo arrivati davvero a uno dei momenti più solenni, perché purtroppo tre dei nostri concorrenti dovranno lasciare la gara. Come avete visto hanno partecipato tutti sportivamente, ce l'hanno messa tutta, però purtroppo queste sono le regole del gioco. La nostra giuria, che io ringrazio, ha votato, ha votato con coscienza, perché si rendono conto che per loro questa potrebbe essere un'opportunità importante, però ricordiamoci comunque che è un gioco. Vi siete messi in gioco, siete stati tutti bravissimi, però adesso è il momento di andare a vedere che cosa è successo. Come ha votato la nostra giuria, credo che la grafica sia pronta. Possiamo incominciare ad esplorare il nostro tabellone e a vedere chi è il sesto classificato di questa prima puntata di Sei un mito. Vi ricordo il sesto, il quinto e il quarto dovranno lasciare la gara, mentre gli altri tre si esibiranno con un'altra canzone. Vediamo chi è il sesto classificato. La SketchUp! Ragazze, vi ringrazio. Siete state brave, spiritose e allegre, in bocca al lupo, grazie per essere stati con noi. E allora, noi serriamo le file, eccoci qua, ci stringiamo. Ragazzi, siete in cinque. L'emozione è forte, anche il nostro pubblico sta con il fiato sospeso, perché dopo è il pubblico in sala che decreterà il vincitore. Vediamo un po', vediamo un po' che cosa ci dice il nostro tabellone. Al quinto posto, Luciano Ligabue. Mi dispiace Gino, grazie. Grazie per aver partecipato. Soltanto un altro di voi sarà eliminato. I tre che resteranno sul palco dovranno cantare un'altra canzone, quindi si dovranno sottoporre ad un'altra prova e si dovranno sottoporre al giudizio del nostro pubblico in studio. E allora, quarto classificato, vediamo un po'. Tiziano Ferro, Mario, è stato un piacere, grazie, grazie veramente. E allora, chi sono i primi tre finalisti? Beh, l'avrete capito, T.Architto, la nostra reta Franklin, e poi Gianni Martinelli, Albano e Rita Signorino, Loredana Bertè, sono i primi tre finalisti di Sei un Mito. Quindi ragazzi, congratulazioni, siete stati bravi ma dovete confermare questa bravura. perché il nostro pubblico è molto attento, voterà, avrà a disposizione un telecomando per votarvi. E beh, scopriremo tra poco chi sarà il vincitore di questa prima edizione. Intanto voi siete i tre finalisti, siete un Mito questa sera per voi. Terzo e ultimo concorrente, Rita Signorino, Loredana Bertè, ci canta, sei bellissima. Se pesco che un giorno ha detto, il tempo che un dottore lo lega a un sasso stretto stretto, e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni, un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di portarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora. Sei bellissima, sei bellissima, sei bellissima. Rita Signorino, Loredana Bertè, resta pure qui sul palco Rita, perché io voglio richiamare anche Albano e Aretha Franklin, i tre finalisti. Schieratevi nell'ordine in cui avete cantato, così non facciamo confusione, anche per la giuria. E allora, perché adesso è chiamato a votare il nostro pubblico, no, mettiamo Albano qui, ecco, no. Vi spiego qual è il motivo, perché Albano ad Albano è abbinata la lettera A, ad Aretha Franklin la lettera B, e allora Danna Bertè la lettera C. Mi raccomando, caro pubblico, votate con coscienza e soprattutto votate soltanto un concorrente, quello che vi è piaciuto di più. Mi raccomando, la tensione è altissima, perché come sapete, soltanto uno di loro, il vincitore, avrà la possibilità di accedere alla grande finale del 30 luglio, dove si sfideranno appunto i vincitori delle sei puntate. Si tengono per mano, potete cominciare a votare, c'è tensione, c'è emozione, sono emozionata anch'io, sinceramente credo che sia molto difficile, perché siete stati tutti veramente, veramente bravi. Però purtroppo le regole del gioco sono queste, soltanto uno sarà il vincitore di questa puntata. E allora, vedo che il pubblico in sala ha votato, per cui dichiaro chiuse ufficialmente le votazioni. Fra poco, fra pochissimo, sapremo chi è il vincitore di 6.1. E allora, la grafica è pronta? Ragazzi, naturalmente siete stati tutti bravissimi, però il vincitore sarà uno e uno solo. E allora, vediamo la percentuale. Il terzo classificato ha ricevuto il 24% dei voti e si tratta di... Albano! Albano, Gianni Martinelli, grazie, grazie mille e complimenti. Restano in lista, Tia e Rita, Loredana Bertè e Aretha. Aretha ha già vinto il premio della critica? Mi batte il cuore, Teo, non mi guardare con quella faccia, sono emozionata. Mi capisco. Vediamo prima le percentuali, le percentuali di voto, dopodiché sveleremo chi è il vincitore di questa prima puntata di 6.1. Il secondo classificato 37%, il primo classificato 39%, per cui ha un soffio. Sul filo di lana, sul filo di lana, proprio... Sul filo di lana. Siamo pronti? Loredana Bertè! Rita Signorino vince la prima puntata di 6.1.2. Ritroveremo anche Tia Arpito nella grande finale perché ha vinto il premio della critica. E allora, Teo? Bene, a questo punto diamo appuntamento a sabato prossimo. Ecco che arriva il premio però, ci stiamo riuscita. E' la cosa più importante, il premio Patrizio Buanne consegna il disco d'oro di 6.1.2. Spero che questo premio, bel premio, come vedete tutti, ti porti successo come è portato per me. Grazie. E allora, Teo, noi salutiamo, salutiamo, diamo appuntamento a sabato prossimo, ora 21, canale 5, per 6, un mito. E vi ricordiamo che le selezioni per partecipare sono ancora aperte, quindi se volete potete chiamare lo 04237334. E qual è il modo migliore per concludere? Con un bacino. Tu dammi un bacino. E noi ci ascoltiamo ancora una volta. Rita Signorino, Loredana Bertè, la vincitrice di 6, un mito. Buonanotte a tutti, ci vediamo dopo prossimo. Arrivederci. Vai Rita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.